Oggi un momento di concreta solidarietà all'unità operativa complessa di oncologia all'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa. Grazie alla generosità dell'associazione Giarratana On The Way che ha organizzato nello scorso mese di novembre un'iniziativa passeggiata della salute. Le somme raccolte sono state utilizzate per acquistare gli arredi del nuovo ambulatorio del reparto di oncologia. Nello specifico l'unità operativa è stata dotata di un lettino per visita reclinabile, una scrivania e una vetrinetta per studio contenente farmaci e piccoli dispositivi utili per le visite. Facciamo promozione del territorio di Giarratana e dopo tre anni abbiamo deciso di intraprendere un discorso solidale organizzando proprio una passeggiata ad hoc per fare una donazione al reparto di oncologia dell'ospedale di Ragusa. ed oggi siamo qui proprio per mettere a frutto e mettere in atto tutto il lavoro che è stato fatto durante questi mesi da novembre ad oggi e assieme al primario di oncologia abbiamo donato le attrezzature per aprire un secondo ambulatorio di oncologia qui al reparto. Queste donazioni confermano la grande sensibilità e la vicinanza ai problemi dei pazienti in cura nel reparto di oncologia da parte delle associazioni, dei loro volontari e dei cittadini che supportano, contribuendo con il loro impegno, al miglioramento del comfort e della qualità di vita dei pazienti in ospedale. È l'ennesima, spero non l'ultima, sono sicuro che non sia l'ultima occasione di mostrare la generosità nei confronti delle strutture ospedaliere e della passione che i medici e gli operatori tutti mettono nell'erogazione delle cure. Abbiamo sempre qualche infortunio e qualche incidente di percorso ma questi gesti stanno a significare che c'è una grande fiducia nei confronti del servizio sanitario dei medici e di tutti gli operatori che sono veramente sempre in prima linea ogni giorno e rendono un servizio importantissimo perché ci sono migliaia di persone che ricevono le cure e sono soddisfatte delle cure che vengono erogate. È un ambulatorio che destineremo ai pazienti ricoverati presso la nostra degenza che ci consentirà di lavorare con una maggiore comodità, con maggiore spazio, con maggiore tranquillità e dando maggiore conforto ai nostri ammalati che vengono giornalmente ricoverati nella nostra unità operativa che serve, come ricordiamo, tutta l'intera provincia di Ragusa e anche estesa da altre province.